Ah, molto bello, sì? Siete americani, sì? No, non siamo americani. Eh? E da dove venite? Da Zetomara. Zeto? Da Zetomara? Davvero? Sì, questo cittadino russo ha scambiato i soldati ucraini per americani. E come dire, all'inizio era anche contento dell'idea di incontrare soldati americani in territorio russo. Poi però è rimasto molto sorpreso e molto più sorpreso nel sapere che questi soldati vengono da una città a ovest di Kiev. E quindi cosa possiamo dire? Che i russi sarebbero contenti di essere liberati dagli americani, immagino. Secondo me sì. Salve cari amici e amiche. Oggi alcuni aggiornamenti dal fronte. Ci sono interessanti novità. Ringrazio Andrew Perpetua per questi aggiornamenti sulla mappa, sulla sua mappa e le notizie preziose. Come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, se non lo avete ancora fatto, e a lasciare un mi piace. Qui sotto ci sono tutti i pulsanti di YouTube per farlo. Se poi volete proprio darmi una mano, potete abbonarvi e o anche consigliare il mio canale a parenti e amici, per esempio. Quindi andiamo avanti. Anche i telegiornali oggi in Italia hanno dato qualche dettaglio, perché ieri, l'altro ieri, avevano preso letteralmente degli abbagli. Erano tentativi maldestri di ricostruire la situazione, perché come sempre si basano sulle veline del Cremlino e non capiscono che il Cremlino mente tantissimo. Però alla fine oggi hanno riportato qualche cambiamento nella regione di Kursk, quindi cerchiamo di capire cosa sta succedendo. L'azione russa si sta concentrando in queste ore nella zona di Corenopo, cercando di spingersi verso sud e così riprendersi parte del territorio russo occupato. Apparentemente stanno avendo successo e l'area sud di Corenopo è interessata dai combattimenti, infatti fra ieri e oggi, quantomeno dalla mappa, possiamo vedere che è contesa. Ma devo anche sottolineare che queste rappresentazioni sulla mappa sono piuttosto provvisorie e in realtà la situazione potrebbe essere molto diversa sul campo da come appare. Perciò farò riferimento anche ad alcuni video geolocalizzati, che chiaramente non vi posso mostrare, che testimoniano in modo più concreto il lavoro dell'artiglieria, dei missili Javelin e dei droni da parte ucraina ma anche da parte russa. Intanto c'è questo video di cui vi parlo, che non posso mostrarvi, che mostra un tentativo di avanzata russa a sud di Ljuminovka, qui in quest'area. Siamo veramente tanto lontani dall'area occupata dagli ucraini. Questo assalto di mezzi corazzati ha incontrato un inferno operato dal 501esimo battaglione ucraino armato con missili Javelin e ATGM. Ora, la cosa interessante da sapere è che questi missili Javelin sono missili spalleggiabili, che usa la fanteria, e che hanno un raggio molto ridotto, di 2 km all'incirca. Quindi, si sono missili americani, per intenderci, che hanno distrutto mezzi russi e uomini russi in pieno territorio russo, ok? Ho detto questo perché ci servirà ricordarlo più avanti in questo video. In quest'altro video, invece, insieme ad altri che stanno circolando da ieri, mostrano l'iniziativa ucraina, che sta avanzando bellamente nei campi a ovest di Obodi e per chilometri in territorio russo, aprendo una nuova direttiva di avanzata in quest'area che è stata isolata in questi ultimi 30 giorni, grazie alla distruzione sistematica dei ponti e dei pontoni improvvisati sul fiume Seim. Ne abbiamo parlato abbondantemente nei giorni scorsi. Quello che sta accadendo, quindi, è che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni, è una sorta di assestamento del fronte, fra una spinta da parte russa in questa direzione, verso sud, mentre le forze ucraine si insediano in tutta quest'area e dovrebbero anche loro spingere verso est. Ma nel frattempo, proprio se guardiamo est, nell'area di Suja, vengono rappresentati tre vettori di avanzata ucraina, però non ho altre novità da dirvi. Non posso mostrarvi alcun video geolocalizzato e quindi nessun aggiornamento. La situazione è piuttosto in divenire, quindi possiamo dire in queste ore specialmente, ma anche secondo Jason J. Smart, giornalista e consulente politico americano che scrive anche per il Kiev Post, è certa la notizia che le forze ucraine stanno combattendo presso Obukovka, qui, e che hanno superato il confine russo e occupato l'area di Noviput. Di queste conferme possiamo dire che sono certe, perché abbiamo visto proprio i video ieri e l'altro ieri di questa avanzata ucraina. Ma comunque diamo un'occhiata anche agli aggiornamenti sul resto del fronte nella zona occupata dai russi. Partiamo dall'area di Vojnčansk. Intanto questa è la situazione all'Ipsi. Come vedete c'è ancora una zona liberata dagli ucraini e la freccia blu ci mostra il vettore di pressione delle forze ucraine che cercano di insinuarsi nella regione di Belgorod. Se ci spostiamo invece nella città di Vojnčansk, questa immagine satellitare, che mostra in realtà una città che non esiste più perché è stata completamente rasa al suolo, le ultime notizie dei famosi soldati russi rimasti all'interno del complesso di aggregazione risalgono al 24 agosto. Non si hanno poi altre novità. E queste notizie di un mese fa, di quasi un mese fa, dicono che queste truppe riescono a tenere la posizione grazie all'uso di droni di rifornimento che gli forniscono acqua e cibo. Ma a parte questo, la situazione in città resta invariata. Pochi giorni fa, le forze, sei giorni fa, le forze armate russe hanno fatto piovere decine di bombe con le incursioni dell'aviazione. Passiamo avanti. Nell'area di Kojnčansk, stanotte ci sono stati diversi raid aerei russi con le famose bombe plananti, segnali che l'aviazione vuole supportare un'eventuale avanzata russa diretta verso sud. E così nell'area di Piskan, Kane, continuano i tentativi della fanteria russa di prendere territorio. In tutte queste aree ci sono state enormi perdite, si segnalano l'utilizzo dei droni incendiari, per esempio. Infatti continuano ad arrivare video ed immagini di droni ucraini che colpiscono questi soldati. Spostiamoci più a sud. Confermo la notizia di ieri, per cui l'ennesimo tentativo di oltrepassare il fiume da parte russa in direzione di Chasivyar non è andato a buon fine. Anzi, la piccola testa di ponte che avevano conquistato è stata distrutta. Qui. Scorrendo poi più a sud, andando a vedere la famosa città di New York, però quella senza la statua della libertà per intenderci, come vediamo in questa mappa è stata un po' aggiornata e ci mostra l'avanzamento delle forze ucraine per quella che è in blu rappresentata l'area liberata. Però vediamo anche che i combattimenti continuano in questa cittadina. Se diamo un'occhiata invece alla direzione russa verso Pokrovsk, tutte queste icone mostrano l'opera di bonifica selvaggia da parte dei droni ucraini che continuano a mettere vittime nelle file russe. Il numero delle icone delle ultime 12 ore ci dà un'idea vaga, ma piuttosto macabra, di quello che sta succedendo qui. Comunque, i soldati russi a volte riescono anche ad arrivare al contatto, come si dice in gergo militare, con le forze ucraine. Questa icona ci mostra che c'è, per esempio, un video in cui, realizzato in prima persona, in cui un soldato spara verso altri soldati, a una distanza di circa qualche centinaio di metri, non di più. Quindi, per quelli che sono dei combattimenti moderni con fucili tradizionali, si può dire, quindi non le solite granate che gli piombono addosso dall'alto da parte dei droni. Scorrendo più a sud, poi, abbiamo un'altra area estremamente densa di combattimenti, da un punto di vista delle icone che possiamo vedere, che ci danno un'idea. Con attacchi di artiglieria da entrambe le parti e truppe in contatto. Questa mattina, nell'area di Vulelar, i russi hanno cercato di avanzare, perché ci provano da mesi, in realtà. Questa situazione è in stallo da mesi, è così. Questa mattina c'è stato un grosso tentativo di incursione, con l'utilizzo di una cortina fumogena e uno scambio massiccio di attacchi di artiglieria da entrambe le parti. Quindi dovremo vedere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per capire se questa intenzione russa ha avuto successo. Tutto il resto del fronte, invece, verso la Crimea, a sud e sud-est, come vedete, non ha avuto cambiamenti. Non ci sono report, a parte giusto questo sistema missilistico russo di tipo estrela, che è stato distrutto. Comunque, questa è la situazione al fronte. Ora, vediamo alcune notizie correlate al conflitto. In questa immagine vediamo, per esempio, com'è la Bielorussia sia stata capace di abbattere dei droni russi che hanno sorvolato il suo territorio e diretti a Kiev. Grazie, Bielorussia. La prossima volta, però, fai il favore anche di attaccare i bombardieri russi che usano il tuo territorio per lanciare i missili cruise sulle città ucraine. Interessante il commento dell'utente che dice che la Bielorussia è l'unico paese oltre all'Ucraina che abbatte i droni russi attivamente. Io vorrei sapere cosa ne pensa Putin di questo fatto, dato che lui e Lukashenko sono amicici, come si dice. E comunque, signori miei, devo dire che è impressionante cosa fa l'intelligenza artificiale oggi. Perché se nella barra di ricerca di Google scrivete, per esempio, Lukashenko e Putin in love, questi sono i risultati. Cioè, non ci pensa due volte a mostrarci abbracci, bacini e bacetti. E lo fa anche, per esempio, con risultati correlati, come con Donald e altri. La stessa cosa. Guardate un po'. Passiamo avanti. Così parlava John McCain, politico e senatore e militare statunitense. Un veterano della guerra del Vietnam, tra l'altro pilota di marina, che con il suo A4 Skyrider fu abbattuto da missili russi concessi al Vietnam del Nord. Lo ripeto. Durante la guerra del Vietnam, i piloti della marina statunitense venivano abbattuti da missili russi dati dalla Russia al Vietnam del Nord. Vi dice niente questo? McCain è stato un personaggio molto rispettato in America, per via delle sue opinioni considerate indipendenti. Era un repubblicano, è chiaro, era un personaggio molto forte. E fra l'altro uscì sconfitto dalla corsa alla presidenza contro Barack Obama. Nel 2016, fra l'altro bisogna poi ricordarlo, da repubblicano che era, prese una forte posizione contro Trump, specialmente a causa delle sue affermazioni populiste tipiche in cui se la prendeva con l'immigrazione clandestina. Trump, fra l'altro, fu capace di un tentativo di infangarlo, dicendo che McCain non fosse in realtà un eroe di guerra, che tutti sono capaci di farsi belli quando vengono catturati dai nordvietnamiti e si fanno quattro anni di prigionia. E insomma, McCain, se fosse stato vivo oggi, avrebbe stracciato Trump e probabilmente sarebbe stato il miglior candidato del partito repubblicano contro la Harris, sicuramente, è deceduto fra l'altro nel 2018 a causa di una malattia. Ma ecco, ecco cosa diceva McCain nel 2014 per parole che, possiamo dire, furono estremamente profetiche. Vladimir Putin's ambitions were very well known to me and to others. He knew that once Yanukovych left, he had to take Crimea because of Sevastopol. Then he tried the separatists, that didn't work. He armed the separatists, that didn't work. So then he sent in thousands of Russian troops. The fact is that they were slaughtering Ukrainians. There were hundreds killed, thousands in the hospitals. It's terrible. Poroshenko had no choice but to agree to a ceasefire. What is going to happen? I predict to you that it will be another step in Vladimir Putin's strategy to separate eastern Ukraine from Ukraine and perhaps a land bridge to Crimea. No, it's a very bad result. And again, we would not send weapons to the Ukrainians when they were begging for them. We wouldn't even give them intelligence because we didn't want to, quote, provoke Vladimir Putin by showing weakness. We provoked Vladimir Putin. Who do you mean by we? The United States? The United States working with the EU? And of course the Europeans, but I wasn't surprised about the Europeans. I was deeply disappointed in the United States of America when they begged us for defensive weapons, and they wouldn't even do that. In fact, it was almost comical. They sent MREs. Why were you not surprised by the Europeans, you say, not taking sufficiently tough action against them? Because they're dependent on Russian energy. It's obvious. It was obvious. And the United States it was obvious that we weren't going to assist them and it's because they don't want to, quote, provoke Vladimir Putin. And there's nothing that provokes Vladimir Putin more than weakness. We have to understand that Vladimir Putin's ambition are the ambition of the world. But let's move on. I poster indegni, diciamolo, che si vedono a Roma con queste affermazioni che mi rifiuto anche di leggere, alla fine sono finite alla CNN emittente televisiva americana. Quindi ecco, buongiorno Italia, l'America oggi parla di noi così. Posso cantare una canzoncina? Quella che fa tipo paraparapà, paraparapà? Ecco. Stendiamo un velo pietoso su tutta la filiera di corruzione, fanatismo, idee malsane e autorizzazioni comunali necessarie affinché dei manifesti di questo tipo possano apparire in una capitale europea. Vergogna e mi vergogno del mio paese, onestamente. E posso anche essere d'accordo che la Russia, intesa come nazione, come popolo, non è nemica dell'Italia, ma lo è di sicuro il suo governo in questo momento. E mai nella storia umana tutta l'Europa, tutto l'Occidente, gli Stati Uniti, la Nato, le società democratiche hanno avuto un nemico così in comune? Ok, e questo deve essere molto chiaro. Quindi, pietà. E questi manifesti, fra l'altro, girano anche su gomma e appaiono anche in altre parti d'Italia. Questo manifesto sta diventando letteralmente lo slogan delle persone che dicono basta alle armi all'Ucraina e viva la pace, eccetera, eccetera. Che poi bellissimo, eh, parlare di pace, se questa poi comporta la distruzione di una nazione, chi se ne frega? così possiamo vivere in pace noi e non sentire più queste brutte notizie e telegiornali come, insomma, lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, né più nemmeno. Non vedo, non sento, non parlo, va benissimo. Qualcuno dovrebbe far presente a queste persone che fine fanno gli ignavi secondo la nostra religione. Dato che appunto poi si parla di valori di pace, del fatto poi che l'Italia ripudia la guerra, ripudiare la guerra appunto significa ripudiare quelle nazioni che la portano alle altre nazioni la guerra. Se io, insomma, vedo un pazzo con un fucile che cammina nel mio cortile di casa, cosa dovrei fare secondo queste persone? Aprire la porta e abbracciarlo? Questo porterà alla pace? O devo chiamare la polizia? Minimo. Insomma, fatevi due conti. Comunque è interessante, vi passo il link di questo post di The Coding Lies che spiega un po' la situazione retroscena dietro questi manifesti che si vedono in Italia. Parla appunto della povertà, delle argomentazioni di chi li mette e in genere sono gruppi che hanno in comune altre argomentazioni tipo i 5G e le scie chimiche. Ecco, dato che mi occupo di aviazione magari un giorno dedicherò un video alle scie chimiche, fatemi sapere. In questo video comunque questa mente brillante parla di rivoluzioni. Che ve lo dico a fare? In ogni caso, se si fanno delle ricerche e non so se consigliarvele o meno, i risultati sono sempre quelli associati a certi personaggi che fanno quel tipo di dichiarazioni. Insomma, per fortuna devo dire che oggi all'estero ci vedono per quello che siamo, senza sé e senza ma. Ma andiamo avanti. Per concludere il video di oggi vi porto questo video. Era il 5 aprile scorso. Questo bambino viveva con la sua famiglia vicino al confine o vive ancora, non lo so. Ogni giorno quando li sentiva arrivare usciva di casa per correre con quella bandiera e salutare i piloti ucraini. Così un giorno decisero di atterrare e portargli caramelle, giocattoli e dei viveri per la sua famiglia. io posso capire che possa essere difficile andare oltre certe esperienze, certe idee per mancanza di prospettiva. però basta aprire qualche finestra per avere anche delle prospettive diverse, no? Quindi andatelo a raccontare a lui cosa significa togliere la possibilità di difendersi al suo paese e togliergli quella bandiera. e con questo cari amici vi saluto quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre un abbraccio con questo un abbraccio e un abbraccio Grazie.